Buonasera a tutti e a tutte, questa è una canzone di solidarietà con un compagno basso che si chiama Lander Fernandez che da quasi un anno ha gli arresti domiciliari in tutta città perché crede nei diritti fondamentali anche dei giovani e delle giovani basse e quindi siamo qui perché pensiamo che se c'è un inferno è quello di Lander, non è quello di Dante. Lander è libero! 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 Questo ragazzo riesca l'estradizione, questo è il nostro modo anche per parlare con l'ambasciata di Fania, con l'ambasciata di Francia e sappiamo che fanno parte dell'organizzazione di questa iniziativa.